Domenica 10 settembre alle ore 18 riaprono i locali della Darsena Borghese ripristinati dall'Anmi che ora ha lì la sua sede sociale dopo che il comune ha messo mano alla sua terrazza nella parte superiore rimettendo così a posto e completando un'importante ristrutturazione per questo sito patrimonio della città di Fano. I lavori per un ammontare di spese di quasi 50.000 euro interamente finanziati dall'associazione con il contributo sostanziale di due imprese locali sono durati quasi tre mesi ed hanno ridato allo stabile il suo aspetto originario. L'Anmi che con i suoi associati ha monitorato tutta la parte esecutiva dei lavori in concerto naturalmente con la sovrintendenza ai beni culturali ora vorrebbe che questa opera di ripulitura e risistemazione degli spazi interni possa anche servire per un rilancio della struttura a beneficio della cittadinanza e non solo come sede dell'associazione. Del resto gli ampi spazi interni sono già stati in passato sede di importanti mostre ed esposizioni ricordiamo una delle ultime di maggior successo quella riguardante un altro pezzo di storia recente fanese il mitico ristorante la lanterna azzurra che negli anni 50 e 60 è stato meta del jet set internazionale e se non anche di cantanti e attori di grande fama. In tutto questo l'amministrazione comunale non può che gioire per l'azione del privato mirata al bene pubblico come oggetto dei propri service a beneficio della collettività intera. Sto pensando ad un progetto di valorizzazione grazie anche alla collaborazione di alcuni soci della stessa Anmil attraverso anche la partecipazione a dei bandi collegati al ex GAC per la valorizzazione della passeggiata perché stiamo pensando alla valorizzazione della darsena borghese fino al faro pensandola, arredandola con le giuste illuminazioni con alcune idee che renderanno quel posto ancora più suggestivo però ecco consentitemi di spendere ancora una parola di ringraziamento, di affetto e di stima e di plauso pubblico alla sessione Anmil perché veramente hanno fatto e stanno facendo qualcosa di straordinario.